Quindi Maier che è il più veloce dei quattro penalizzati sopravanzando a Regombedi. E' già una pronta fila indiana, tutti e sette ben intervallati anche se i quattro penalizzati hanno rifatto in fretta. Numero uno, Oro Mask qualificato. La penalità è Oro Mask si è aperto di galoppo, restano così in sei, cappeggiati da Nora Melebi che paga 1,99. Otto di piaggia in seconda posizione, a 15 metri Maier cappeggia i quattro penalizzati. Il 400 in 31,7 c'è da tener conto della via da fermo di un parziale in 15,3 davanti alle tribune. Quindi per ora il passo è abbastanza costante, quello imposto da Rebecca Dami insulchi al favorito Nora Melebi che mantiene due nei confronti di Otto di piaggia. A sua volta altre tante due lunghezze nei confronti di Maier, Ore Gombevi, Niagara Lux è in coda, Maion dei Greppi, 600 in 49, 48 e mezzo per la precisione. Ora ripreso parecchio in mano Rebecca Dami e così si completa una retta di fronte in 16,1. Il che induce Nicola del Rosso a spostare dal fondo Maion dei Greppi, anche perché sa di poter risalire a spesa quasi zero. In vantaggio da Nora Melebi con fonti di Otto di piaggia raggiunto da Maion dei Greppi. Si completa un primo chilometro nel quale non è successo nulla, in 1,20 e mezzo, addirittura 32, questi 400 non scritti. Si torna nuovamente davanti alle tribune per il secondo passaggio Nora Melebi precede Otto di piaggia che ai lati Maion dei Greppi. Seconda pariglia, perfettivi ricamminata, Maier si arriva a 1.200 metri. Maier in 1,36 scarso, si è formata anche una terza pariglia perché ha spostato dalla corda Niagara Lux. Nora Melebi è sempre in vantaggio ma Maion dei Greppi ormai è lì a tre quarti di lunghezza. Sempre seguito da Maier, il paletto della curva di destra si completa in 16,9. Ha ripreso nuovamente in mano Rebecca Dami che fa un po' di tira e molla. Nora Melebi cerca di contenere Maion dei Greppi, mantiene un collo di vantaggio sull'avversario che è sempre filato da Maier. Di dentro Otto di piaggia, sposta in terza ruota Maier che prova a dare la punta di velocità mentre Maion dei Greppi va con decisione sull'RMLB dopo una retta di fronte in 15,3. Maion dei Greppi all'attacco di Noram, entrambi viaggiano ancora abbastanza bene. In terza ruota richiesto invece con la frusta Maier che è sempre perfettibile ricamminata ma comunque produttivo. Insiste Maion dei Greppi nei confronti di Nora Melebi all'ingresso della retta d'arrivo. Noram cerca di difendersi, Maion insiste a largo, di dentro si butta Otto di piaggia. Nora Melebi ancora in vantaggio, Nora Melebi ha tre quarti di margine, Nora Melebi ha fatto benissimi conti Rebeca Dami che ha fatto un po' di tiri e molla, qualche paletto in 15, qualche paletto in 16,5. In retta tutto sommato staccato, sembrava viaggiare bene anche Maion dei Greppi che è un po' rimasto lì. 14,9 la retta d'arrivo, 30 gli ultimi 400 metri, un rotolo in 2,37, perfettamente calibrato da Rebeca Dami. La vittoria da favorito per Nora Melebi nelle immagini, ecco Nora che sta staccando Otto di piaggia. Si butta